Sì, ci siamo preparati al meglio per affrontare l'ARCOM, conoscevamo, abbiamo studiato al meglio e il nostro obiettivo era questo, anche se vincendo le due partite di ieri e di oggi noi non abbiamo concluso ancora nulla. Adesso l'obiettivo è la semifinale, partita dopo partita. Siamo partiti male, siamo partiti male e diciamo non abbiamo avuto quel cambio neanche fino a tempo siamo andati calando, abbiamo fatto errori sottili, non possiamo permetterci tutta una squadra come Fondi che ci colpisce appena poco, giocatori pronti per l'A1 e che hanno già esperienze in A1. Comunque non è perduto, cancelliamo questa giornata, prendiamo tutto quello che possiamo in questa partita e prepariamoci per domani perché ci giochiamo alla semifinale con tutto il cuore.